bentornati bentornati a tutti amici dall'eccelso in questo nuovissimo video pagellazzi e sentenze di due giorni dopo perché ormai stiamo facendo i pagellazzi a lunedì è un po un risveglio settimanale per ripensare a quel che è successo ora ci dovrebbe essere la pausa se non sbaglio quindi abbiamo anche tempo per analizzare questioni tattiche tecniche come come magari implementare ulteriormente la squadra se adesso già l'assetto è ottimale e e quant'altro allora parto col fare la solita premessa cioè io a differenza di altri testate giornalistiche non do dei voti che sono come sempre che tra l'altro mi sono scritto i nomi ma non ho messo i voti quindi li darò in live con voi però io mi metto cioè io faccio dei voti che sono relazionati chiaramente al prezzo di acquisto del giocatore allo storytelling che c'è attorno al giocatore e al allo stipendio che al giocatore e al valore di mercato corrente che al giocatore quindi quando vedo delle pagelle che mettono magari ad obert 6 per quale motivo ha fatto una partita perfetta senza imperfezioni anche tecnicamente positive giusta e mettono magari ad un nando il 7 e mezzo 8 io mi chiedo cioè qual è la logica dietro questa cosa poi uso sempre nandez come esempio perché quello più lampante il giocatore è quello che uno dei più pagati prende due milioni se non di più e ed è stato pagato 20 milioni quindi non povero nandez non voglio sempre usarlo come esempio ma ad oggi è quello che meglio mi viene però capite bene che i voti devono essere anche relativi rispetto a aspettative rispetto a quant'altro quindi raduno vince voto teniamoci bassi anzi no perché ha fatto quella foto del papà con quella faccia sexy quella quell'addome pancettoso 7 e mezzo 7 e mezzo che forte che forte anzi me li scrivo anche 7 e mezzo ecco questo è un portiere oh aspettate che giro un attimo lui questo è un portiere questo è un portiere cioè non è che ci volesse tanto a capire le esigenze del Cagliari dove fossero le esigenze del Cagliari erano nell'avere un un portiere abile nel gestire la difesa nell'atteggiamento nella cattiveria cioè quando azzi ha sbagliato una diagonale nel primo tempo dopo l'1 a 0 se lo stava mangiando raduno vince è veramente un portiere caratterialmente come piace a me molto stile robin olsen deve migliorare ancora su certe cose sulle uscite lo sappiamo ha fatto già un percorso importantissimo a regina ne ha fatta una che ha mandato anche un po' a vuoto l'attaccante avversario quindi è sempre un nostro e 7 e mezzo mi piace moltissimo lo ripeto per quanto mi riguarda vedendo raduno vici ora farà cappelle fino a fine stagione ma secondo me è uno dei pochi di questa squadra che vedo già adesso pronto eventualmente per giocare in serie a quindi tutti i discorsi a ci serve un portiere raduno vici può fare solo il secondo ma c'è io direi che qualcuno deve anche ritornare un po sulle sue posizioni come l'ho fatto anch'io su altri giocatori perché raduno vici si sta dimostrando assolutamente all'altezza zappa zappa voto 8 perché al di là del gol ha fatto una grande partita l'otto forse un voto un po esagerato però mi è piaciuta l'aggressività la serenità con la quale sta approcciando le partite è veramente un giocatore in gran in gran forma più che altro in gran fiducia ce lo vedo sereno lo vedo sereno con chi dorme dei compagni con un ziolella siccome gli da serenità comunque zappa 8 e devo dire che insomma la prestazione è stata veramente veramente ottima sono contento per lui perché vi ripeto un giocatore che io ho sempre difeso ma non per altro perché mi sembrava un po di uno di quei bravi ragazzi che non riusciva ad esprimersi e veniva un po oppresso e soppresso allo stesso tempo da tutte le parole le cattiverie che si dicono che si dicevano e che si diranno in giro perché cagliere veramente un ambientaccio è stato con lui l'ha distrutto in tutti i modi ripeto ancora andatevi a vedere i commenti sotto il primo tempo con l'ascoli cioè quando la colpa non si sa chi darla è colpa di zappa è colpa di dei ola è colpa ragazzi cioè cerchiamo di elevarci un po nei commenti nel nelle disamine per favore zappa 8 dosena voto dosena ci ha fatto una partita buonissima sicuramente sufficiente ampiamente anche onestamente non mi sento di dargli un votone perché comunque nel secondo tempo certo è iniziato anche lui un po sbarellare non ho capito la botta in testa cosa sia successo non importa voto io penso che sarà il voto uno dei più bassi sei e mezzo gli darei non esagererei oltre perché lui ci ha abituato a grandi prestazioni un 6 al 7 sei e mezzo troppo basso un 6 al 7 perché comunque ha fatto una grande partita anche lui di testa sempre presente lo voglio veder segnare perché secondo me c'era lo stacco impetuoso voglio altare altare dosena assieme che vanno in mezzo e distruggono tutto e bene 6 al 7 barreca senza voto 6 se volete dargli un voto perché visto simpatico nel mio caso senza voto obert voto 7 voto 7 perché comunque ha fatto una signora partita voto 7 perché non ha avuto particolari impegni però è stato molto attento molto lucido molto concentrato molto bene azzi e azzi azzi mi piace veramente molto vi dico la verità è un giocatore che è arrivato io ve l'ho detto nel 352 avevo paura che lì servisse un mancino vero però azzi se gioca così destro mancino frega un cazzo anche a sinistra cioè è un giocatore veramente devastante cioè ragazzi devastante soprattutto se comparato all'alternativa che barreca voglio dire io penso sia evidente a tutte al di là del fatto che possa poi stare più o meno simpatico e quant'altro voglio dire di cosa stiamo parlando paulone scazzi paulone scazzi voto 8 occhio alle diagonali e adesso parliamo anche di questo fattore abbiamo finito di analizzare la difesa anzi no altare ancora entrato anche qua gli darei un senza voto chiusure tutte giuste tutte puntuali senza voto visto che ad altare gli diamo 10 anzi diamo 10 ad altare 10 ad altare però voglio dire azzi il problema di azzi e zappa qual è stata la dinamica della partita abbiamo aggredito molto alti molto bene ci siamo trovati contro una squadra che non è stato in grado di capire dove venissero i nostri pericoli dove arrivassero le nostre potenzialità ovvero sulle fasce e non è stata neanche in grado di capire che proprio da lì noi rischiavamo di più cioè noi abbiamo due terzini zappa e azzi se tu metti zappa e azzi una difesa 4 tu hai due terzini che se la squadra avversaria capisce che il problema a livello difensivo è lì se ti inizia a fare cross su cross tra centrale terzino che il terzino deve continuamente fare diagonali lì il cagliari lo ammazzi lo ammazzi è questo il problema io ora non so a livello di diagonali azzi e zappa come siano messi non so come siano messi se in allenamento ne faranno tante spero immagino quanto sia migliorato soprattutto zappa ma azzi anche non ce le ha nelle corde quelle diagonali mi sembra anche perché lui nasce come esterno alto il mio la mia perplessità rimane questa cioè al di là del fatto che adesso c'è vedete come poi cagliari due vittorie importanti belle di fila figa stiamo parlando di un'astronave del del real madrid no c'è concentrati lucidi sono contentissimo anch'io sono positivo però piedi per terra lavorare perché ripeto la regina è stata veramente poca cosa merito nostro assolutamente sì però voglio dire secondo me se uno avesse individuato il punto dove attaccare come le fasce non centralmente come hanno fatto loro con i vari inserimenti di fabian di coso cioè secondo me nel momento in cui ci troveremo una squadra che gioca molto sulle fasce magari con un 433 magari con un 442 secondo me bisognerà stare molto attenti bisognerà stare molto attenti perché da lì nascono pericoli cioè c'erano momenti in cui azzi azzi e zappa erano veramente molto avanzati sia nella situazione poi rischiosa perché i centrali nostri parliamo non è che sono dei veloci raptor non è che sono dei ghepardi delle cose delle pantere no cioè sono degli dei dei rinoceronti voglio dire dei cinghialoni cioè magari sul lungo diventano anche veloci ma nel breve sono chiaramente lenti quindi attenzione a questo aspetto io continuo a dire che secondo me la difesa 3 anche in vista di playoff di partita secca può garantire più stabilità stabilità nel complesso è chiaro che tu adesso ti rimangono 9 8 partite in queste partite che rimangono o quante ne rimangono non mi ricordo forse in queste partite che rimangono l'allenatore deve improntare la squadra fisicamente per i playoff cioè fisicamente tecnicamente tatticamente per i playoff quindi il modulo che verrà delineato gli schemi di gioco che verranno delineati adesso saranno quelli da tenersi nel playoff altra cosa adesso la squadra è al top fisicamente speriamo di arrivare ai playoff così al top ok perché questa squadra deve per per forza di cosa arrivare a questo livello fisico per giocare in questo modo perché ripeto è un soprattutto ruolo di terzini è molto cruciale in questo modulo qui e con questa difesa 4 che sapete le mie perplessità comunque nandez nandez voto voto 7 7 più secondo me ha fatto anzi 7 diamogli un 7 secondo me ha fatto una una buona mi è piaciuto molto devo dire quell'asse si allargava sempre poi ripeto è una partita tecnicamente non memorabile non incredibile però oggi almeno è stata una corsa di qualità ok nella nella corsa trovo della qualità non trovo della qualità nelle sue giocate lo sapete lo trovo la maggior parte dei casi abbastanza impreciso però nella corsa oggi ho trovato qualità qualità nel capire quando spostarsi quando accentrarsi quando è il momento di attaccare di difendere e quant'altro mi è mi è piaciuta prestazione intelligente quella di nandez di oggi è intelligentissimo anche il cambio bravo per che entrato poi kurfalidis kurfalidis a kurfalidis voglio dare il voto perché mi è piaciuto molto l'atteggiamento con cui è entrato quella scivolata quelle cose insomma è entrato veramente un bel giocatore il l'ultimo gol nasce da una palla che lui se non sbaglio recupero comunque da una palla che poi da mancosu mi è piaciuto diamo un 6 al 7 anche lui per non insomma esagerare per non dare un senza voto però se il 7 kurfalidis mi è piaciuto molto macumbo macumbo ma non una brutta partita però ragazzi cioè parliamo sempre dello solito macumbo prova a fare un lancio lungo lo sbaglia cioè non lo fa neanche ma meno male quando l'ha provato apri di cielo almeno in deiola io paradossalmente sbagliando ho visto una capacità di rischiare e di osare quelle giocate che il play deve fare di più c'è macumbo voto vero ha eliminato tutti i diecimila tocchetti vero è un altro giocatore rispetto al giorno d'andata ma non è un regista ragazzi cioè io mi viene difficile dare un voto a macumbo perché se non è troppo condizionato dal ruolo cioè io cosa gli posso dare la prestazione macumbo è sufficiente ma è un 6 più cioè ripeto secondo me il suo ruolo è il villaggio di villasimius a fare l'animatore estivo poi nel campo potrebbe essere la mezzala potrebbe essere non lo so ma cioè vi prego compriamo un regista quest'estate che io non ne posso più di vedere certe cose deiola deiola voglio dare un 7 adesso vi direte ma come ma cosa dici voglio dargli un 7 ok alla faccia di tutti quelli che lo insultano merda di qua di là deiola 7 perché mi ha mi ha gasato con quell'apertura di 40 metri che è andata in fallo laterale perché ci ha provato perché ci ha provato ha fatto quello che macumbo non ha osato fare in 80 in 70 minuti sopra 3 a 0 ok ok deiola voto 7 bravo mi è molto piaciuto lella lella altro partitone e lella è un fattore importante in questo centrocampo vi dico di più secondo me ad oggi è il centrocampista non più forte più importante per le dinamiche di squadra che abbiamo cioè il centrocampista che allo stesso tempo ti permette di avere grazie alla sua capacità di corsa di avere il pressing alto di avere la possibilità di recuperare palle in mezzo di avere inserimenti senza palla di aver rovesciato in area che attenzione è veramente un giocatore importante sta diventando importante fondamentale nell'aspetto tecnico tattico di questa squadra vi dico il prossimo anno serie b serie a secondo me kurfalidis un play bello importante e lella secondo me centrocampo fatto fine fine secondo me veramente bisognerebbe riflettere sul ruolo di lella ad oggi perché davvero viene anche questo sottovalutato cioè ho visto anche qua dei voti e partita di costanza cioè ma ragazzi ma voglio dire ma lella che partita doveva fare per prendere un sette e mezzo cioè veramente è stato un giocatore secondo me importantissimo in questo centrocampo per dinamiche per avanti indietro per la pericolosità che crea lella guardate che uno che un'occasione a partita se la crea sempre e questo è un elemento importante dei centrocampisti paradossalmente lella è quello che mi sembra che tra tutti ci possa dare più gol più apporto offensivo anche in vista dei playoff per sfangare le partite le rovesciate in area le cose lella paradossalmente a centrocampo è quello che ci potrebbe dare di più anche se sapete che secondo me lì in mezzo è il più forte kurfalidis ve l'ho sempre ve l'ho sempre detto però lella obiettivamente è un giocatore che si sta dimostrando importante non lo dico io per simpatie cose quant'altro lo dice il campo cioè lo dice il campo che il signor nuziolella è un signore importante per questa squadra voto sette e mezzo voto sette e mezzo mi è molto piaciuto mancosu mancosu voto voto sette e mezzo anche a lui sette e mezzo anche a lui perché comunque è stata veramente una grande una grande prestazione non aggiungo altro nel senso ripeto vediamo fisicamente quanto dura questo mancosu che ad oggi sta facendo la differenza speriamo reggasi nei playoff io i miei dubbi onestamente speriamo non si rompa soprattutto bene bene così prelez voto mi ha gasato tantissimo voto però non posso dargli più di sei e mezzo però mi ha gasato le lisciate i colpi di testa lo spazio le botte le cose bravo 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 sei e mezzo bravo tronista millico ma millico alla fine le sue cose le ha fatte entrato che ha perso un pallone che mi stava facendo cristonare voto millico sei e mezzo anche a lui a me non è dispiaciuto è entrato bene era anche giusto l'inserimento giusto mi è piaciuto anche il cambio bravo bravo ragneri la padula voto quali devo mettere un otto e mezzo per dargli anche il migliore in campo perché sopra le prestazioni di zappa e azzi assolutamente la padula otto e mezzo è un trascinatore e anche qui ripeto relativismo dei miei voti e dei miei giudizi cioè se ad inizio anno io alla padula ero non sono mai stato neanche troppo critico rispetto ai voti rispetto perché riconoscevo che non gli arrivasse mezzo pallone però ero critico perché non riconoscevo quell'animo di animale che sta dimostrando adesso e che ha sempre dimostrato nella sua carriera e i dati le statistiche parlano per me sul girone d'andata ok o su comunque tutte quelle partite dove veniva criticato la padula ad oggi la padula è un fattore aggiunto ma non vuol dire che quindi bisogna i giudizi bisogna darli anche relativi a certi archi temporali cioè se un giocatore a un certo periodo fa cagare se Joe Pedro l'anno scorso il giorno di torno ha fatto cagare bisogna dirlo non è che perché gli anni due anni prima al miglior marcatore della storia e quant'altro e allora non puoi parlare di Joe Pedro è certo che posso parlare di Joe Pedro certo che posso parlare di la padula che non sta alle aspettative ad oggi la padula non è che sta alle aspettative le ha anche superate probabilmente perché è veramente un fattore aggiunto per questa squadra totale quindi importante Ranieri voto 8 perché comunque insomma l'ha preparata molto bene gestita molto molto bene mi sono piaciuti molti cambi un bacione ciao a tutti